Per terra, sostenibilità e sviluppo. Questo è il tema di un incontro promosso a Corigliano presso la sede di Mondiversi dalla sezione cittadina del PD. A coordinare i lavori è Enrico Reda. La crisi climatica al centro dell'incontro per un'analisi sulle ripercussioni che la mancata riduzione delle emissioni sta provocando sul pianeta con coinvolgimenti economici e sociali che con il passare degli anni avrà ripercussioni anche sul prodotto interno lordo. Impatti del clima già evidenti come eventi meteorologici estremi, migrazioni forzate, problemi di salute mentale, nonché un aumento della fame e della cattiva alimentazione in luoghi dove si può coltivare e trovare cibo a sufficienza. Quali sono i quattro possibili effetti del riscaldamento globale? È stato ricordato nell'incontro a cui hanno preso parte il presidente nazionale dei giovani imprenditori della Coldiretti Enrico Parisi, l'imprenditrice Maria Grazia Minisci, il professore Aurelio Angelini e il capogruppo della Commissione Agricoltura e della Camera dei Deputati l'onorevole Stefano Vaccari. Parlevamo dei effetti del riscaldamento. Sono l'aumento del livello del mare, l'aumento delle precipitazioni, la deforestazione. Con questi timori la scadenza dei prossimi anni, se non ci sarà una notevole riduzione delle emissioni, porterà ad uno sconvolgimento delle economie locali in un'ottica di globalizzazione incontrollata.